Non sono nemmeno quantificabili i danni provocati all'ambiente dall'incendio che ha completamente distrutto Calaforno. A questi vanno sommati quelli prodotti alle aziende. Per Legambiente Sicilia, temperature alte, vento e mano criminale, oltre alle politiche inadeguate, stanno distruggendo il patrimonio ambientale della provincia. Legambiente fa presente inoltre che la situazione peggiora ogni anno e chiede l'invio di carabinieri forestali. Per l'associazione non è una coincidenza il fatto che proprio dove vi sono pastori e allevatori che praticano allo stato brado e ciò avviene in territorio di Monte Rosso e Giarratana, si registrano con frequenza più alta incendi. Fa presente inoltre che dove l'allevamento è stabulato o semi-stabulato e dove c'è l'ossatura della zootecnia eblea non ci sono incendi o comunque sono rari. A novembre Legambiente Sicilia aveva presentato alle istituzioni regionali delle proposte volte a prevenire la diffusione di incendi ma nulla di ciò che era stato richiesto, fanno sapere, è stato realizzato. Se nulla può essere fatto per tornare indietro, adesso si deve intervenire per limitare i danni e per tutelare ciò che rimane. Non basta ricostruire ciò che è stato distrutto. Le temperature aumenteranno e le piogge scasseggeranno. Legambiente propone dunque di investire nelle opere di forestazione. Per quanto riguarda invece il patrimonio boschivo esistente, chiedono la redazione obbligatoria dei piani di gestione forestale sostenibile, condizione necessaria per l'utilizzo della mano d'opera e anche per l'accesso ai fondi pubblici. Chiedono inoltre l'introduzione del divieto tutto l'anno della bruciatura in pieno campo e con vegetazione naturale. Per le zone colpite dall'incendio con vegetazione naturale, chiedono invece l'estensione del divieto di pascolo per dieci anni su tutte le aree. Propongono di disporre la decadenza di dieci anni da ogni beneficio finanziario per le aziende agricole, forestali e pastorali, la cui superficie dell'anno è stata interessata dal fuoco per una percentuale superiore al 5%. Nei comprensori a rilevanza turistica, invece, la chiusura per cinque anni ad ogni attività di fruizione e del tempo libero delle aree percorse dal fuoco ricadenti all'interno di parchi, riserve naturali e demani forestali.